Si attende che l'avvertenza in corso dinanzi all'Ufficio del Lavoro conduca ad un epilogo nella vicenda che vede da una parte la cooperativa che si è aggiudicata all'appalto, l'S-Quadro, per fornire i servizi agli ospiti del Centro di Accoglienza per Migranti di Pian del Lago e dall'altra i 105 lavoratori che in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo gestore vedono offrirsi un contratto di 16-18 ore settimanali rispetto al precedente, che ne prevede 36. Un gruppo di operatori che si è rivolto ad uno studio legale per chiedere al Governo nazionale e regionale un intervento normativo o amministrativo urgente che possa garantire la trasformazione e il trasferimento in un ruolo anche ad etaurimento delle dipendenze di una qualsiasi pubblica amministrazione operante nella provincia di Caltanissetta. Siamo al quindicesimo giorno di protesta lo stato d'animo è abbastanza pesante perché siamo molto preoccupati per questa situazione per noi, per le nostre famiglie vediamo un po' di indifferenza le cose non si sbloccano, non ci sono passi migliorati in avanti questa notte il collega che faceva lo sciopero della fame, che era salito anche a Roma dove continuava anche là lo sciopero della fame stava pure di notte fuori ha avuto un malore, è collassato, è stata chiamata l'ambulanza è tutt'ora all'ospedale perché ogni giorno che andiamo avanti nella nostra protesta, nella nostra avvertenza non abbiamo spiragli di positività, non esistono andiamo a fare tutte le riunioni andiamo in tutte le istituzioni che dovrebbero tutelare il nostro lavoro il nostro futuro e invece ci troviamo un muro quindi siamo sempre lì soli a lottare e molti di noi comunque siamo due persone che lavorano là marito e moglie, marito e moglie, marito e moglie quindi significa che in un colpo viene azzerato un intero stipendio cioè in due non riescono a fare uno stipendio quindi le preoccupazioni aumentano aumentano sì questo è quello che a casa abbiamo in questo momento e comunque siamo tutti nervosi i bimbi abbiamo tutti i figli e ne risentono perché comunque sei lì a cercare di lottare non per noi più perché comunque ma anche per loro perché a scuola devono andare, devono mangiare, devono vivere anche loro hanno, l'abbiamo fatto proprio per questo è il percorso della vita